Se gli appunti sui verbali in possesso di Vincenzo Scarantino non erano tutti farina del suo sacco, ci dica Fabrizio Mattei chi altro ci ha messo mano. Sono passati 30 anni, se c'è stato dell'altro ditelo. Lo ha detto nel corso della requisitoria, ripresa questa mattina il PM Stefano Luciani, nel processo che vede imputati tre poliziotti, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, per il depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta. Secondo l'accusa, i tre componenti del gruppo Falcone-Borsellino, assistiti dagli avvocati Panepinto-Seminara, avrebbero indotto Vincenzo Scarantino a dichiarare il falso mediante minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti. Il PM Stefano Luciani si è soffermato nel corso della requisitoria sugli appunti che Mattei avrebbe scritto di proprio pugno sui verbali in possesso di Scarantino. In un primo tempo il poliziotto, secondo la ricostruzione dell'accusa, aveva detto che erano stati interamente scritti da lui per dire che non erano tutti i suoi. L'accusa, di cui sono chiamati a rispondere davanti al Tribunale collegiale, preseduto da Francesco D'Arrigo, è di calunnia aggravata dall'avere favorito Cosa Nostra. Mattei, aggiunto il PM Luciani, non ha detto il vero quando ha tentato di disconoscere la paternità di queste scritture poste a margine. Se si arrivano a rendere dichiarazioni che vengono smentite dalla realtà dei fatti, evidentemente una motivazione c'è. Non puoi rispondere in esame con un non lo so se ti viene chiesto se tu hai la paternità di quelle manoscritture. Allora Mattei non diceva il vero nel 1994.